In questo video vedremo, come anticipato alla fine della lezione precedente, l'aspetto one-liner del Perl. Ho deciso di dedicare un'intera lezione a questo argomento poiché lo ritengo un aspetto fondamentale e fortemente caratterizzante del linguaggio e il saper utilizzare questa funzionalità può cambiare radicalmente la nostra filosofia di utilizzo. Buona visione! Uno degli aspetti più interessanti del Perl riguarda proprio la possibilità di poter utilizzare l'interprete come se fosse un tool da riga di comando. Questa caratteristica del linguaggio prende il nome di one-liner in quanto ci consente, per l'appunto, di eseguire diverse operazioni senza dover scrivere nemmeno una misera riga di codice. Curiosi, eh? Vediamo come funziona. Supponiamo di voler modificare il file doc sostituendo la sequenza ciao contenuta al suo interno con la sequenza un saluto. Per raggiungere il nostro obiettivo possiamo scrivere un piccolo script come quello in esempio dove passiamo il nome del file da modificare come argomento e poi processando linea per linea il file aperto in input dal diamond operator mettiamo la sequenza ciao e la rimpiazziamo con la sequenza un saluto. Eseguendo lo script infatti funziona tutto a meraviglia. Come vedete adesso il file doc contiene la frase un saluto a tutti. La sequenza ciao è quindi stata rimpiazzata con la sequenza un saluto come da copione. Utilizzando una perl one-liner possiamo condensare lo script che abbiamo appena utilizzato in questo unico comando. Vediamo come funziona. Innanzitutto si richiama l'interprete e dopodiché si utilizza questa combinazione di flag composta da flag p più flag i più flag e. Il flag p crea un loop di stampa dove verranno successivamente inseriti i nostri comandi. Per intenderci meglio genera al volo un costrutto while avente il diamond operator come operatore in testa e la funzione print come ultima operazione del ciclo. Il flag i svolge la medesima funzione della variabile speciale accento circonflesso in maiuscola. Anzi ad essere precisi il flag i è proprio uno shortcut di questa variabile speciale. Se assegniamo un valore al flag i verrà quindi assegnato direttamente alla variabile speciale accento circonflesso in maiuscola con tutte le relative conseguenze del caso. Nell'esempio non assegniamo alcun valore al flag i lasciando dunque la variabile accento circonflesso in maiuscola non definita. Questo vuol dire che effettueremo un'operazione in place ovvero non creeremo alcuna copia di backup del file originale. Infine il flag e ci consente di inserire delle istruzioni all'interno del loop di stampa creato precedentemente dal flag P. In questo caso mi sono limitato ad inserire semplicemente l'espressione regolare di sostituzione ma volendo avrei potuto utilizzare molte più istruzioni. In pratica la magia delle perle one liner consiste fondamentalmente nel creare al volo delle strutture basilari di codice per effettuare determinati tipi di operazioni risparmiandoci così di dover riscrivere ogni volta i soliti classici brevi script. Comodo vero? Lanciando infatti il comando perl flag P flag I e flag E assegnando a quest'ultimo l'espressione regolare di sostituzione da utilizzare nel loop di stampa otteniamo come potete vedere il medesimo risultato. La sequenza ciao contenuta nel file doc viene sostituita con la sequenza un saluto. Altro esempio. Cosa otterremo in output lanciando questa one liner? Analizziamo insieme il comando. Innanzitutto si crea un loop di stampa utilizzando il flag P. Dopodiché attraverso il flag E si assegna alla perle favorite default la stringa variabile speciale punto che come sappiamo contiene il contatore della linea corrente del file handle aperto in lettura, spazio e infine troviamo di nuovo la perle favorite default. Quindi cosa avremo in output lanciando questa one liner? Avremo in output l'intero contenuto del file doc2 numerato riga per riga. Eccolo qua. È possibile inoltre utilizzare le one liner per gestire delle situazioni più complesse. Supponiamo di voler stampare solamente la seconda riga del file doc2. Per riuscirci possiamo effettuare un controllo direttamente sulla variabile speciale punto e stabilire che se la variabile speciale punto è uguale a 2 quindi se il file handle sta leggendo la seconda riga di stamparla in output. Anche in questo caso possiamo risparmiarci di scrivere uno script e risolvere il tutto con una one liner. Nella one liner che ho creato ho utilizzato il flag N per creare un loop di non stampa ovvero a differenza di un loop di stampa un ciclo while che non ha come ultima istruzione la funzione print. Perché ho utilizzato un loop di non stampa? Perché in questo modo posso scegliere io quando e cosa stampare in output. Utilizzando un loop di stampa non avrei questa libertà in quanto come abbiamo detto in un loop di stampa la funzione print viene aggiunta automaticamente alla fine del loop andando così inevitabilmente a stampare qualcosa in output alla fine di ogni ciclo. Una volta creato quindi il loop di non stampa si inseriscono al suo interno le istruzioni attraverso il flag E. In questo caso visto che vogliamo stampare in output solamente la seconda riga del file doc2 si definisce un blocco if dove si va a controllare il valore della variabile speciale punto e se quest'ultima è uguale a 2 si eseguono le istruzioni tra parentesi graffe. Eseguendo le istruzioni tra parentesi graffe si va ad assegnare alla perl favorite default la stringa variabile speciale punto più spazio più perl favorite default in modo tale da stampare successivamente in output il numero della riga e il relativo contenuto. È inoltre possibile attivare addirittura gli warnings utilizzando il flag w. Nella one liner che ho utilizzato nell'esempio ho attivato gli warnings con il flag w e successivamente ho definito attraverso il flag E un'operazione di assegnazione dove assegno alla variabile nome la stringa Mario. Avendo quindi attivato gli warnings con il flag w una volta lanciata la one liner abbiamo uno warning per l'appunto che ci avverte che la variabile nome è stata utilizzata solamente una volta poiché l'abbiamo solamente definita senza poi utilizzarla in altre operazioni e che può potenzialmente trattarsi di un errore. Le one liner sono talmente potenti e versatili da consentirci addirittura di importare al volo moduli e fissure durante la loro esecuzione. Nella one liner che ho preparato utilizzo il flag w per abilitare gli warnings poi attraverso il flag m maiuscola includo al volo durante l'esecuzione dello script la feature 6 ed infine stampo in output la stringa ciao utilizzando proprio la funzione 6. Ed ecco qua il nostro output. Bene e anche per questa lezione è tutto. Vi invito a provare a scrivere da voi una one liner utilizzando il flag i per creare una copia di backup del file che state processando. Vi lascio inoltre un link di approfondimento sulle perle one liner in descrizione e rinnovo il mio solito invito a commentare in caso di dubbio di domande. A risentirci.